Io sono Vittalardi a minuti con un nuovo video, come sempre qui a cominciare, SIGLA! Questi anni ho fettuto una cosa del mio orario di YouTube, ovvero che per me è strano fare lunedì, mercoledì, venerdì alle quattordici, e se il giovedì sono diciotto. E qui ho deciso di, da mercoledì, di farlo alle diciotto pubblicare i video, così non c'è continuità dell'orario. E così, questo vuol dire. Quindi questo è un solo video di comunicazione, di servizio, e termina qui. Quindi, vi ricordo che ci vediamo martedì, no, mercoledì, non martedì, con un nuovo video. E quindi, come sempre, chiudo il mio video, se la vostra vita è grigia, solidete, perché avete un'unità sola. Ciao, alla prossima!